C'è stato un sit-in il venerdì. Questa iniziativa ha lo scopo di chiedere ai medici che hanno rassegnato le dimissioni un ripensamento sulle loro dimissioni, almeno anche in modo tale che le autorità sanitarie possano provvedere a dare sostituzione per dare continuità alla struttura. Oltre 160 firme raccolte in meno di due ore. Al quartiere Ferrovieri con 7.000 residenti e oltre 4.000 assistiti, il centro medico nei locali di proprietà comunale di via Fincato non deve chiudere. Al momento i tre medici che anche questa mattina erano in servizio hanno tutti presentato le dimissioni per problemi economici ma anche di sicurezza. I cittadini stanno alzando la voce verso le istituzioni e lanciano l'allarme. La gente sta rispondendo in maniera molto molto partecipe, anche capisce il problema e lo vede come un problema importante, anche perché avere una zona così importante, essere scoperta di medici, ci mette in ginocchio. Già hanno tolto la guardia medica che era così comoda, adesso tolgono pure i dottori, cioè come rimaniamo? Io sono stata venerdì al pronto soccorso. Novità, è troppo presto per sapere cosa decideranno, ma io mi auguro che si mettano d'accordo, però i problemi sono tanti. È una cosa seria questa perché c'è gente che purtroppo ha bisogno perché uno non viene dal medico per farsi una passeggiata, anche perché è tutto su appuntamento. E non si può fare niente per fermarli soprattutto. Io qua adesso venivo, avevo una certa fiducia e mi sta andando via perché so che fra un mese spariscono. Allora ho capito che loro vogliono farci andare anche a pagamento. Il quartiere reduce anche da parecchi cambi di medici, io personalmente ne ho cambiati quattro in un anno, per cui ci vorrebbe anche una certa continuità fra le altre cose, insomma. E poi ecco, anche noi utenti dobbiamo mantenere un po' di educazione, capiamo che i medici sono giovani, hanno bisogno di fare esperienza e dobbiamo anche capire questo, insomma, ecco. Grazie a tutti.